Siamo davanti a una porta. Dietro la sua soglia c'è il futuro. C'è l'intelligenza artificiale, una realtà che sta già trasformando il nostro mondo e il modo di fare impresa, da nord a sud. L'IA non è futurismo, è qui oggi, come tecnologia a supporto dell'eccellenza italiana, dall'artigiano alla grande impresa. Occorre essere intraprenditori visionari per accoglierla. Le imprese che applicheranno i suoi nuovi modelli cresceranno. Occorrerà però affiancarsi a partner preparati e le agenzie di comunicazione che stanno già operando con l'IA sono tra le più importanti. L'intelligenza artificiale non è un fine, ma un mezzo per amplificare le nostre capacità. Una riflessione, come può l'IA essere il puntino di congiunzione per sbloccare il potenziale della vostra impresa? In questa rubrica di un minuto continueremo a presentare tanti puntini. Seguite tutte le puntate e troverete il metodo per congiungerli e diventare un'impresa potente. In un minuto si possono scoprire mondi nuovi. Alla prossima!